Finale thrilling al Cardiopalma durato fino ai 7 minuti di recupero nel big match del 25esimo turno del campionato di terza categoria che ha portato la Fortis Arezzo a fare sua alla partita contro la Nova Vigor Misericordia. Per la Fortis si tratta del 14esimo risultato utile consecutivo servito intanto a consolidare il terzo posto. A decidere la partita ancora lui, Bomber Pecorari, abile a deviare in rete alla mezz'ora la punizione di Brunacci. I ragazzi sono stati eccezionali, oggi era una partita dove soffrivamo un po' l'emotività, quindi siamo stati un po' troppo contratti per questo non è stata giocata in maniera un pochino più brillante, però abbiamo giocato contro una squadra che secondo me meriterebbe anche di vincere il campionato. Ma detto ciò io sono fiero di questi ragazzi che hanno fatto una rimonta incredibile e oggi posso dire che al di là di qualche merenda che c'è stato in qualche altro campo o corso di corso, qualcuno forse oggi vedendo il risultato magari non dormirà questa notte. Io sono fiero di questi ragazzi, ancora ci sono tre partite, più speriamo i playoff, è un gruppo che può centrare l'obiettivo. In ogni caso sono fantastici, non ho altre parole. Una partita spigolosa, una partita giocata con estrema rudezza però in campo si è visto dei giocatori più che altro degli atleti che al termine sono scambiati la mano e quindi una vittoria che dà ancora lungimiranza alla formazione a retina, 14 risultati utili consecutivi e lanciata per chissà dove. Sì, una partita dagli anni mi ha accesi, fin dall'inizio si sapeva che era una partita abbastanza calda. Sono contento del risultato perché è primo per i ragazzi che comunque hanno preparato bene la partita in settimana e poi anche per Pecorari che ha fatto questo trentesimo gol e ha messo fine a questa partita che era per noi decisiva. Noi viviamo partita per partita, domenica per domenica come sempre detto e adesso archiviata questa siamo già con la testa domenica contro il Quarata quindi ancora c'è tanto da fare, ci sono tre partite, ci sono in ballo nove punti e speriamo di poterli accaparrare.